Proacci, improvviso questo video al volo visto che molti di voi mi stanno chiedendo come gira la GTA Trilogy su Switch. Per iniziare ho acquisito un po' di footage sia in modalità portatile che fissa per farvi avere una prima idea. Ho potuto anche confrontare l'intro di San Andreas con la versione old gen, precisamente quella su Xbox One X. Così potete avere un'idea del downgrade grafico. Per quanto riguarda la Switch ci sono evidenti problemi di framerate e stuttering, ma per avere una recensione approfondita avrete la mia opinione definitiva su EveryEye la prossima settimana. Vi lascio ai video, per problemi di copyright ho disattivato la musica in macchina e perdonate se le immagini in handled non sono di qualità eccelsa, ma i mezzi a mia disposizione sono a dir poco poracci. Però vi aspetto nei commenti, che ne pensate di questo porting? Noi ci vediamo presto, fate bravi, mi raccomando. Io sono il Poro GTA, Michele Trilogy, ciao! Noi ci vediamo presto, Michele Trilogy, ciao! Noi ci vediamo presto, Michele Trilogy, ciao! Noi ci vediamo presto, Michele Trilogy, ciao! Do you want day release from the hull? Carry on Carry on Carry on Carry on Carry on Carry on Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. So, like it says in the book, we are blessed. Oh, my God, you're so kind. Oh, my God. Oh, my God. Welcome to America, asshole. I'm in the middle of a... I'm in the middle of a... No, 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 no. You really want this to get messy, huh? No, 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 no. Hey, 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 fermo. Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa. Grazie. 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 Grazie.